40 per cento in un mese con il copy trading è possibile beh questo è quello che è capitato a me se vedi tutto questo video ti spiego come ho fatto ti faccio un tutorial passo passo benvenuto benvenuta nel canale del marchese di cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino cerchiamo innanzitutto di capire che cos'è il copy trading si tratta di copiare le azioni in modo del tutto automatizzato di un trader si spera professionista il che naturalmente comporterà avere sia i profitti che le eventuali perdite di questo signore a chi è adatto il copy trading a modo di vedere a tutti sia chi vuole diversificare sia a chi non è esperto di trading sia chi non ha tempo da dedicarci per fare queste operazioni però è necessario un exchange dedicato non si può fare con il classico binance ho preso quindi accordi con una piattaforma nello specifico widget ci sono naturalmente dischi che voglio dirti prima di cominciare uno fra tutti sono delle persone che fanno queste operazioni tu segui come detto i movimenti di una persona questa persona può sbagliare può non mettere dei stop loss e nel caso specifico quindi può perdere tutti i suoi soldi che tradotto significa potessi perdere tutti i tuoi fondi benché comunque se abbiamo delle soluzioni che poi andremo a vedere oltre a questo ci sono anche un po di furbetti e andiamo a vedere anche questo aspetto e il mio consiglio personale che non è un consiglio finanziario mettici solo quello che sei disposto a perdere ma andiamo con ordine ti faccio questo tutorial e ti spiego il tutto passo passo bene eccoci la di subidget sembra un exchange affidabile con così anche sponsor della juventus e procediamo con ordine il primo passaggio è poi naturalmente di aprirsi un account quindi fare la registrazione qui sotto in descrizione del video c'è un referra link con il quale avrà il 5 per cento di sconto sulle fee grazie a questo accordo costretto con la piattaforma questo è un exchange classico con il quale puoi acquistare e vendere criptovaluta quindi ci sono i contratti future puoi fare naturalmente del trading con leva sia in modo del tutto autonomo che come detto utilizzando il copy trade oggi andremo a vedere proprio la parte copy trade una volta che hai aperto il conto il conto è stato verificato si può andare direttamente sotto la voce attività e si può fare deposito in questo caso si sceglierà la valuta da depositare può depositare già direttamente usdt ci sono diverse block chain che è possibile utilizzare come ad esempio quella di Tron quella di Binance Smart Chain quella di Polygon oppure quella classica di Ethereum una volta che avete depositato i vostri fondi all'interno della piattaforma è possibile iniziare a effettuare le prime operazioni seconda della block chain che avete scelto i fondi ci metteranno più o meno tempo per arrivare ma solitamente in un paio di minuti già li avete sul proprio conto a questo punto per poter effettuare le operazioni di copy trade bisogna andare sotto la voce trasferimento selezionare in questo caso gli usdt e spostare da spot agli usdt in questo caso sarebbe la parte future mi raccomando questo è un aspetto molto importante spostate in questo caso solo la quota che si è disposti a perdere perché se spostate tutti i soldi e non mettete degli stop e magari vi dimenticate di prendere alcune accortezze potrete perdere tutto quindi in questo caso quello che sta sullo spot verrà preservato quello che sta sul future è quello che in pratica scommettete su questa attività importante capire che si può iniziare anche solo con 10 dollari io in questo caso ho iniziato con un importo pari a 100 dollari che era un importo che l'ho disposto a perdere ho versato magari un importo maggiore ma dalla parte sport a future ho spostato inizialmente solo 100 dollari quindi qua inserite l'importo che volete trasferire dallo spot al future e mettete confermare in 2-3 secondi li avete già nel conto future una volta che i soldi sono giunti sul conto future potete andare sotto la voce copy trade e questa è la parte più importante sia come scegliere il giusto trader io le prime due settimane ho seguito una persona la quale mi ha fatto perdere tutto cioè in pratica inizialmente ho perso tutti i fondi depositati in pratica quei 100 dollari dopodiché ho spostato altri fondi e ho iniziato a capire il meccanismo quindi io il più possibile se riesco ti vorrei evitare quella parte non ti posso dire chi sto seguendo direttamente perché mi è stato vietato oltre naturalmente non voglio prendermi questa responsabilità ma posso dirti in compenso a cosa prestare attenzione come primo aspetto io direi di diffidare assolutamente dal ROI questo a percentuale io non la terrei in nessun modo in considerazione è molto fuorviante perché questo perché ci sono delle persone poco trasparenti ad esempio non so che si aprono due account ci versano 5 dollari sopra sia sull'uno che sull'altro aprono due trade in contemporanea con leva 10x uno long e uno short naturalmente uno prenderà la direzione giusta l'altro prenderà la direzione sbagliata ma quello che prenderà la direzione giusta potrebbe avere un ROI spropositato perché sia stato il tutto manipolato quindi su quel dato io non ci farei proprio nessun affidamento altra cosa che voglio consigliarvi come detto è quello di iniziare con i piccoli importi e possibilmente con un solo trader alla volta questo perché perché così potete avere direttamente il polso della situazione ma anche se guadagnati inizialmente non significa che poi non vi possa far perdere tutto e andiamo a vedere anche questo aspetto perché queste persone effettuano questa operazione lo fanno perché hanno delle reward da tutti i follower che hanno in pratica loro guadagnano una parte dei profitti che generano dai propri follower quindi alcuni malintenzionati hanno tutto l'interesse di farsi seguire da una marea di persone per poi naturalmente avere la percentuale di reward delle fee e dei eventuali profitti e poi insomma se dovessero perdere loro perdono poco ma voi invece magari perdete tanto quindi attenzione a questo aspetto qui ci sono dei tasti verdi che vi faranno seguire direttamente la persona alcune persone sono complete il che significa che potete entrare dentro e inserire come promemoria slot in pratica ti arriverà un'email quando si libererà un posto perché hanno un tetto massimo allora tornando direttamente sotto questa pagina quindi a che cosa prestare attenzione l'aspetto per me probabilmente più importante è questo campo sia il profit e loss totale in pratica ad esempio questo signore che ha guardato 12 e 24 per cento di ROI ma un profitto di 13.48 dollari il che significa che ha messo un importo molto basso ad esempio questo agenzia che ha fatto un profitto di circa 210 mila dollari potrebbe essere una persona papabile perché presumo che è una persona che ha investito diversi soldi e non voglia assolutamente perderli non credi allora si possono anche ordinare per profit e loss totale i primi te li mette che credo non siano sponsorizzati non so perché insomma i primi non sono attendibili dopo di che iniziano quelli ordinati per profit e loss ad esempio facciamo andiamo magari alla pagina successiva anzi no vediamo questo signore qua che comunque sia ha avuto un profitto di 259 mila dollari per quanto riguarda fotocopertici pnl in pratica è il profitto di chi li sta seguendo in questo caso mi sembra sempre non so una persona papabile non lo so andrebbe con questa testata che cosa fare innanzitutto ci clicchiamo sopra e vediamo un attimino che operazioni sta facendo sta praticamente ferma negli ultimi sette giorni andiamo a vedere l'ultimo mese che tipologia di operazione ha fatto non è un'operazione non è una persona che fa tantissime operazioni ha aperto una operazione il 26 di agosto quindi probabilmente se cercate del trading a breve probabilmente non è la scelta giusta facendo finta quindi che volessi scegliere questa judith in questo caso posso andare su segui metto ho letto accetto l'accordo qui sopra e metto confermare e questa è la parte più importante ossia che riguarda il risk management infatti qui dobbiamo inserire con quanti soldi possiamo seguire ogni singola operazione di questo trader ad esempio non so poniamo che io la volessi seguire con 10 dollari si fa che ogni volta che lei apre un'operazione anche di 100 dollari di 1000 dollari quello che sia il mio massimo per il quale la seguirò sarà di 10 dollari però in questo caso attenzione molti dei raid aprono 4 5 6 operazioni una dietro l'altra se voi qui mettere 10 dollari non inserite un altro importo si fa che potete arrivare ad investire 60 dollari potenzialmente cioè 10 dollari per ogni singola operazione in quel caso non lo stare più seguendo con solo 10 ma con 60 con la stessa posizione quindi non basta solo qui inserire l'importo per il quale con il quale volete seguire questa questo signor o questa signora che sia andiamo direttamente su massimo seguito in questo caso se volete seguirla per un importo complessivo massimo di 100 dollari posto che come detto avete un quesia il tetto massimo dell'importo che avete trasferito dalla spot al future ma ad ogni modo smettiamo che avete inserito un importo più elevato e la volete seguire per un massimo di 100 dollari inserite sotto questo quadratino 100 dollari sotto questa parte invece potete inserire uno stop loss e un take profit in percentuale in pratica la quota che sei disposti a perdere per ogni singolo trade aperto da questo individuo mettiamo ad esempio non so che sei disposti a perdere massimo il 30 per cento in volta che l'operazione arriverà un 30 per cento di perdita il trade verrà chiuso questo inseritelo sempre a mio modo di vedere naturalmente non 30 per cento mettete quello che ritenete opportuno ma non lasciate fare completamente tutto al trader perché se il trader viene liquidato verrete liquidati completamente anche voi quindi mettete sempre uno stop loss il take profit è relativo si può anche non inserire una volta selezionato il tutto potete mettere confermare basta cliccare su successivo metto confermare e andando qui sul mio operatore come vedete sto seguendo questa judith posso naturalmente sotto la voce modifica posso eliminarla posso cambiarla posso fare insomma come voglio ma a questo punto seguire a tutte le persone che farà questa judith se andate sotto la parte cronologia qui vedete tutte le operazioni di 3 di apertura e di chiusura che faranno direttamente le persone che state seguendo con eventuali profitti ed eventuali perdite questo normalmente vi serve semplicemente a voi per avere una panoramica generale poi l'importante è quello che otterrete io in questo caso ho detto il 40 per cento perché per quello che mi ha portato il trader che stavo seguendo è stato un profitto del 40 per cento in realtà questo numero non è un numero ben definito può essere molto di più come può essere molto di meno come può essere una perdita quindi selezionate bene la persona da seguire iniziate con importi bassissimi in modale che potete verificare voi stessi come va questa persona mettete sempre uno stop loss e ricordate che sono appunto delle persone quindi possono sbagliare ricordatevi sempre questo ritornando sotto la parte trasferimento mi raccomando ricordatevi di controllare ogni tanto e quando avete fatto dei profitti di ritrasferirli in questo caso dall'account future all'account spot in modo tale che così anche se vi fosse sbagliati per qualsiasi ragione non verranno presi dall'account e utilizzati per effettuare le operazioni di trading quindi pensate a prendere profitto altrimenti rischiate che vi vengono reinvestiti a loro volta che si potrebbero darvi dei profitti maggiori ma nel caso venga liquidato verrete liquidati anche voi quindi ogni tanto spostate questi soldi dall'account future all'account spot in modo tale da portare a casa i profitti andando qui sotto questo mino andando sotto la voce i miei premi avete anche dei bonus di benvenuto questi bonus li avrete utilizzando il link come detto qua sotto in descrizione oltre che avete il 5 per cento per sempre di sconto sulle fee e qualora quindi queste persone aprissero diversi trade naturalmente è importante avere anche una fee bassa oltre a questo widget anche un bot che volendo si possono fare delle operazioni di trading direttamente automatizzate quindi non passando tramite copy trade ma direttamente in modo del tutto automatico tramite bot ma magari quelle se siete interessati faremo magari un approfondimento in futuro magari scrivetelo qua sotto nei commenti e se questi contenuti sono piaciuti lasciami un bel like e ci si vedo al prossimo video il marchese cripto ciao buona giornata